L'anticiclone di origine africana responsabile dell'attuale ondata di caldo intenso che caratterizza l'approssimarsi a ferragosto continuerà ad intensificarsi fino al fine settimana per poi cedere l'ingresso a una serie di correnti più umide e instabili provenienti dal nord-ovest. Un ricambio d'aria con varie precipitazioni interesseranno da prima la montagna nella seconda parte della domenica, poi anche la pianura tra lunedì e martedì, attenuando decisamente la condizione di caldo affoso. Venerdì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte e qualche annuvolamento su rilievi, temperature diurne in lieve ulteriore aumento. Sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo in montagna, possibile modesta nuvolosità in transito, del tutto assenti le precipitazioni con temperature in generale contenuto aumento salvo le massime stabili in pianura. Domenica cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, salvo qualche annuvolamento dalle ore pomeridiane. Sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi dalle ore centrali annuvolamenti via via più diffusi. Dal pomeriggio probabili rovescio temporale sui rilievi, temperature in pianura minime in aumento, massime stabili. Lunedì inizialmente poco nuvoloso, salvo nubi, residue in montagna, nuvolosità in aumento dalle ore centrali a partire dalle zone montane e poi verso sera parziali annuvolamenti anche in pianura.